Buongiorno a tutti, ecco il secondo brano, sono sempre qui con la seconda E della scuola secondaria di Vigasio per una seconda simulazione. Il brano è un canone inglese intitolato The Cat Is Gone. Per impararlo io prima farei la parte ritmica e il testo, cioè vi chiedo di fare la parte ritmica e il testo così impariamo la canzone. Appoggiate pure i battenti. Allora. Ta, ta, ti 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 ta. Via. Ok? La seconda frase fa. Ta 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 ta. Ora faccio la frase più lunga. Via. Poi, va avanti e fa ta, ta, tiki tiki ta, tiki tiki po, ta, via, ta, ta, tiki tiki po, ta. Il testo dice, ding dong, digi digi dong, digi digi dong, the cat is gone, pronti via, ding dong, digi digi dong, the cat is gone, il gatto è scappato. Seconda frase, ding dong, digi digi dong, digi digi ding dong, via, ding dong, digi digi ding dong, digi digi ding dong, esatto, se fate mani e voce vi aiuta a imparare bene il pezzo, siete pronti? Tutto il pezzo con la voce, con le mani, tre e quattro. Ding dong, digi 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 dong, digi 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 dong, e to, ti, son. Ding dong, digi 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 dong, digi digi ding dong. Molto bene. Ora, piano piano impariamo le funzioni diverse di questa partitura. C'è chi farà il tema, cioè le due tastiere suoneranno il tema, ma anche i due metallofoni, e sono in quattro che fanno il tema. Prima lo faranno all'unisono, cioè tutti la stessa melodia, poi in forma di canone, cioè una voce che insegue l'altra, per cui vi darò degli attacchi diversi. Mentre le piastre con travasse, le chitarre e le due batterie faranno un accompagnamento. L'accompagnamento, che adesso continuerà, così impariamo a suonarlo, delle piastre con travasse, è semplicissimo. Do, sol, do. Ok, impariamolo un po'. Pronto? Tre e quattro. Do, sol, da. Bene. Recitiamo il testo. Pronti? Do, sol, da. Stessa cosa fanno le pittade, cioè do, sol, mi, però anziché fare un do, eseguiranno do, sol, ta vuota e mi cantino. Pronte? Si ripete continuamente. Do, sol, i, do, sol, mi. Pronte? Un, due, tre, via. Do, sol, mi, via. Do, sol, mi. Pronte? Così. Anche tu? Un, due, tre, via. Do, sol, mi. Pronte? Un, due, tre, via. Do, sol, mi. Ogni tanto, invece di fare il urlante, date insieme al urlante un colpo di piatto. Ogni tanto, tipo ogni quattro. Ora il tema. Per semplificare, togliamo il sì che non viene usato, ma tutte le altre note vengono usate. Anche il fan viene usato. E togliamo anche il reacusso, così mi concentro su queste note. Guardate. Pronti anche voi, castiere? Attenzione. Prima frase. Do, sol, la, 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 sol. Per fare la, 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 veloce. Vediamo la sordina. Do, sol, la, 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 sol. Pronti? Un, due, tre, e quattro. Do, sol, la, 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 sol. Attento perché non avevo detto di suonare così, ma di fare. Do, sol, la, 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 sol. Quando fate quattro la, 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 dovete alternare le piastre e tenere i battenti così, va bene? La, 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 sol. Do, sol, la, 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 sol. Pronti? Via. Do, sol, la, 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 sol. Bene. Terza frase. Dai, la seconda frase. Mi, 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 re, mi, do, mi, sol. Guardatemi. Mi, 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 re, mi, do, mi, sol. Ripeto. Mi, 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 re, mi, do, mi, sol. Pronti? Via. Mi, 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 re, mi, do, mi, sol. Ripetiamola un po' di volte. Via. Mi, 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 re, mi, do, mi, sol. Mi, 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 attento. Mi, 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 re, mi. Pronto? Via. Mi. Insieme. Io faccio quarto, poi è via. Mi, 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 re, mi, do, mi, sol. Insieme. Tre e quattro. Mi, 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 re, mi, do, mi, sol. Ok. Prima e seconda frase diventano. Do, sol. La, 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 sol. Mi, 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 re, mi, do, mi, sol. Pronti? Via. Do, sol. La, 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 sol. Mi, 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 re, mi, do, mi, sol. La terza frase identica alla prima, cioè Do, sol. La, 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 sol. E la quarta frase conclude così. Mi, 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 re, mi, do. Lungo. Capito? Facciamo la terza e la quarta frase, cioè Do, sol. La, 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 sol. Mi, 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 re, mi, do. Pronti? Via. Do, sol. La, 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 sol. Mi, 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 re, mi, do. Detto? Mi, 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 mi. Quattro volte, cioè Un, due, un, due. Capito? Mi, 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 re, mi, do. Tutto il tema simulando. Do, non vediamo questo palo. No, lasciarlo andare. Lascia che vibri nell'aria. Tutto il tema simulando e tutto il tema suonando. Via. Do. Simulando, simulando. Via. Do, sol. La, 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 sol. Mi, 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 re, mi, do. Mi, sol. Do, sol. La, 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 sol. Mi, 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 re, mi, do. Questo è il tema intero. Proviamo a suonarlo adesso e poi aggiungiamo gli accompagnamenti. Salute. Un, due, tre, via. Do, sol. La, 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 sol. Mi, 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 re, mi. Mi, 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 sol. Do, sol. La, 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 sol. Mi, 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 re, mi, do. Lungo. L'ultima volta è lungo. Ora partiamo dagli accompagnamenti. Aggiungiamo il tema. Lo faremo quattro volte all'unisono. Poi la seconda fase si tratta di fare il cambio. Pronti? Partiamo dalle pitarre. Dosso, mi, dosso, mi, via. Piastra di più tra basse. Via. Un, due, tre, e, un, due. Do, sol, la, 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 sol. Mi, 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 re, mi. Do, mi, sol. Do, sol, al. Scusa. Stai accelerando il tempo. Eri fuori tempo. Ripartiamo. Guardami sempre. Quando do, ti do sempre l'inizio, lo dici. Va bene? Ripartiamo. Dall'interno è un po' più forte. Pizzicato più forte. Tre, e, quattro. Due. Un, due, tre, via. Ecco. Un, due, tre, e, un, due. Passo. Ba, 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 ba. Per il pulsione. Di, da, do, da. Do, sol. Do, da, 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 da. Un, due, via. Do, sol. La, 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 sol. Mi, 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 re, mi. Do, mi, sol. Do, sol. La, 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 sol. Mi, 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 re, mi. Do, mi, sol. Oh, sol. La, 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 sol. Mi, 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 re, mi. Oh, stop. Il canone consiste nel fare il tema e ognuno parte sfalsato. Partiamo dal canone e poi chiamogli ostinati. Parto con la tastiera, uno, tastiera due, metallofono tre e metallofono quattro. Quando il canone continua, tutti voi partite e poi chiudo tutti insieme. Va bene? Do, do, da, da. Si, do, da, da, sarà così. Guarda. Lei parte fa do, sol, la, 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 sol. E un tu. Do, sol. Riparti da do, la, 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 sol. Tu riparti. do, sol, attenzione a non confondersi perché io mi darò sempre il tempo, però ognuno fa una cosa diversa, le frasi sono 4 e si sovrappongono 4 frasi una sopra l'altra, non sono più una dopo l'altra, va bene? 3, si? Si può decidere o di togliere la voce alla volta oppure tutti insieme finiamo, io tenderei a finire tutti insieme, si può scegliere tutte e due le possibilità, pronta, via, 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 pronto, via, 1, 2, 3, via, 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 questa è la prima possibilità, l'altra possibilità è che io vi chiudo uno alla volta, quando faccio così si chiude una voce, proviamo, prego? Ma però alla fine chiudiamo con gli ultimi che sono partiti o con il primo che è partito? Di solito si può essere il primo o l'ultimo, è sempre una scelta del direttore, voi dovete seguire il gesto del direttore, pronti? Ora ripartiamo sempre, facciamo 4 volte il tema e poi il cane, va bene? 4 volte il tema quindi tutti insieme? 4 volte le due righe? Si, 4 volte le due righe e poi chiamo il cane, pronti tutti insieme? 1, 2, 3, 4. Ancora Ancora Sì, sol, la, 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 la La, 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 la Ch Global Gala ö di fronte Bulte I, I, I A Bult E, I, I Gr кнопbra I, I Tutti insieme Ok